e bentornati raga benvenuti in questo nuovo video bomba e benvenuti siete nuove su questo canale del cazzo come state raga un po che non ci sentiamo mi sono assentato ormai lo sapete lavoro mi spacco il cazzo con la vita normale quindi non ho più voglia e tempo da dedicare a youtube allora sapete che se faccio un video il motivo è serio già sapete già avete visto sono arrivato per ultimo appunto perché mi tocca fare le cose di sera sono ancora vestito da lavoro raga of service anzi saluto il capo capitasse magari da ste parti e niente raga gta 6 ufficiale dopo dieci anni finalmente dopo tanti rumor dopo tanti leak dopo tante tante dottore di cazzo sappiamo che esiste l'abbiamo visto tutti tutti quelli che dicevano che faceva schifo dai leak che avevano visto avete visto come cazzo è bello ora ve lo faccio vedere io niente ragazzi io non ci incischerei inizierei subito con questa reaction pazzesca 10 cazzo di anni raga guardate quanto è grosso quella mappa guardate il realismo raga della gente guarda come si muove il personaggio guarda 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 raga sono gazzatissimo sappiamo che nel 2025 uscirà questo gioco cazzo alla ragazza cazzo di oggi cioè guardate i piedi buongiorno i cucuritti iniziale su dell'acqua cazzo di oggi cazzo di oggi cazzo di oggi Mamma mia Guardate che scena Pazzesco Trailer pazzesco E ora ne parliamo Allora in realtà a parer mio c'è veramente poco da dire Perché il trailer secondo me si spiega già da solo Ma raga avete notato la visuale della prima persona molto particolare Sembra quasi in stile COD Poi bisogna vedere se non era il video fatto apposta Ma io da questo GTA 6 mi aspetto tanto Tanto come penso vi aspettate voi Vabbè quello che è Quindi raga il punto è questo La prima persona sembra pazzesca La grafica sul realismo allo stato puro In alcuni momenti sembrava quasi di guardare un film e non un gioco Le animazioni dei personaggi Raga la guida La visuale dentro i veicoli Cioè qualcosa deve essere di pazzesco E io spero che la storia sia davvero davvero trainvolgente Niente ragazzi Volete qualcosa più di dettagliato? Non me ne frega niente Non è questo il video Questo era per annunciare finalmente Che GTA 6 è qua Con noi Deve solo uscire Bella raga Sbarabam Sbarabam No